bene tavola 50 faremo la prospettiva di una di un quadrettato analogo a quello della tavola 49 questa volta utilizzando però un altro metodo che è quello dei raggi visuali allora andiamo per ordine e questo che vediamo in questa immagine è il me il modo che abbiamo utilizzato per tracciare questo quadrettato in prospettiva nella tavola 49 cioè abbiamo trovato dei punti adesso qui a livello di esempio ho evidenziato il punto 1 come incrocio diciamo così tra due rette la retta e la retta b che sono le due diciamo così parallele principali del quadrato quindi del punto 1 ma lo stessa cosa sarebbe potuto succedere qualsiasi altro punto oltre che dei vertici a b e c abbiamo individuato la traccia di b la traccia di a delle due rette a e b la fuga di a la fuga di b e lo abbiamo individuato poi facendo portando la traccia di a alla fuga di a la traccia di b alla fuga di b nell'intersezione come nella piano della pianta anche nel piano della prospettiva l'intersezione di queste due rette ha determinato il punto 1 e la stessa cosa l'abbiamo fatto per tutto vediamo adesso invece un altro modo per farlo questo modo si chiama quello dei raggi visuali ora vedete da questa diapositiva che il punto 1 può essere sempre determinato facendo intersecare due rette una è la retta a che è la stessa di prima l'altra invece è una retta b che qui ho diciamo così evidenziato in nero quindi con un tratto più marcato questa retta in realtà sarebbe una retta che parte dal punto 1 e arriva al punto di vista quindi punto 1 come intersezione della retta e della retta b che cosa comporta questo che la fuga di a e la che la retta b ok avrà traccia e fuga coincidenti perché perché abbiamo detto che la traccia è il prolungamento della retta fino alla linea di terra e questa retta arriva alla linea di terra in questo punto la fuga è la parallela alla retta passante per il punto di vista quindi la parallela di se stessa per cui questo punto che noi troviamo qui è sia la fuga che la traccia allora questo che cosa comporta comporterà che nel nella vista del piano della prospettiva questa retta è la traccia di a noi abbiamo unito traccia con fuga quindi era una letta diciamo inclinata unire la fuga di b e la traccia di b di fatto è una retta orizzontale perché la traccia di b sarà sulla linea di terra e la fuga di b sarà sulla linea dell'orizzonte ma sono perfettamente allineate quindi questa intersezione ci determina il punto 1 eccola qua qui manca questo ultimo pezzo però è così capisce adesso come possiamo procedere quindi per per il nostro disegno cerco di rimpiccolire eccolo qua allora partiamo solito discorso impostiamo il foglio con una vista della piano della pianta e visto il piano della prospettiva questa identica a base diciamo così della tavola 49 e vediamo come possiamo procedere allora prima cosa disegniamo il quadrato a b c d che è il quadrato di base utilizzeremo questo metodo dei raggi visuali per determinare tutto il quadrettato interno quindi la prima parte la conosciamo prolunghiamo a b c e d e troviamo le tracce a b c e d dopodiché troviamo le fughe parallele ad a e b passando per il punto di vista riportiamo le tracce sulla linea di terra le fuga sulla linea dell'orizzonte uniamo le tracce con le fughe e individuiamo di fatto il quadrato nella nostra nella nostra piano della prospettiva a questo punto incominciamo a lavorare con i raggi visuali partiamo dal primo quadratino lo ingrandisco che è lo stesso dell'esempio precedente quindi tiriamo giù questa retta il punto di intersezione con il quadro eccolo qui determinerà un punto che è sia la traccia che la fuga del punto a eccolo qui quindi lo porteremo nella vista del piano della prospettiva e individueremo questi questi due punti traccia e fuga che sono qui questo qui ci determinerà appunto il primo punto allora possiamo fare vediamo qui la stessa identica cosa per tutti i punti quindi di ogni quadrettato possiamo trovare il raggio visuale i punti che noi andremo a trovare di intersezione li porteremo nella vertica con una verticale nel piano superiore dove intersecherà la retta a ci permetterà eccolo qui da questa vista si vede bene quindi tutti i vari punti di intersezione portandoli nel piano della prospettiva queste sarebbero queste linee verdi ci determineranno ecco in grandisco un pochino il primo punto è marcato ma allo stesso modo tutti gli altri punti ci determineranno il quadrettato di base su cui lo andremo a lavorare la stessa cosa ovviamente la facciamo per la retta b a ecco scusate prima ancora come possiamo fare una volta determinati questi punti questi punti siccome queste rette sono tutte parallele alla alla retta b faremo a faremo coinvolgere tutti questi punti convergere tutti questi punti nella fuga di b e quindi troviamo la prima serie di linee chiaramente queste sono parallele essendo parallele convergono nella fuga di b faremo adesso la stessa identica cosa nel nell'altro lato quindi nel lato b tracceremo tutti i raggi visuali e quindi determineremo tutte queste intersezioni a questo punto eccolo qua dalle intersezioni queste linee in verde tireremo su tutte le verticali che andranno ad intersegare la nostra retta in una serie di punti facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte e portiamo eccolo qui tutti questi punti alla relativa fuga che è la fuga di a perché tutte queste rette saranno parallele ad a questa è la retta a che già arrivava a questa fuga b c anche la retta c arrivava alla fuga ovviamente tutte le parallele arriveranno anche loro alla stessa fuga quindi dalle varie intersezioni portiamo le parallele vedete abbiamo di fatto determinato il nostro il nostro grigliato il nostro reticolato di base completeremo il disegno ripassando chiaramente con la mina f il quadrettato come abbiamo già fatto e togliendo i colori questo qui sarà di fatto il disegno finale che con un metodo di costruzione differente porta esattamente lo stesso risultato essendo se voi le misure sono le stesse però se avete disegnato il quadrato con la stessa inclinazione del quadrato della tavola 49 il risultato finale perfettamente sovrapponibile all'altro quindi questo è un ulteriore modo che può essere utile in particolari casi adesso nel caso che abbiamo visto adesso oggettivamente tra il metodo della tavola 49 il metodo della tavola 50 non è che alla fine a livello operativo ci sono grandissime differenze a livello di tempo però in alcuni casi soprattutto nella rappresentazione di oggetti architettonici questo metodo del raggio visuale può essere un metodo comodo perché ci permette di poter individuare un punto in modo molto rapido facendolo passare per punto di vista in modo che traccia e fuga sono perfettamente allineate tra di loro